Salve ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars e come possiamo vedere sono arrivato a 1910 perchè ieri ho giocato con un matto e mi sono fatto 400 trofei e come potete vedere ho trovato Bigby, nello scorso episodio ho trovato Bigby in più mi ho mandato anche il video di 11 secondi e ho trovato anche Beryl sono molto contento di aver trovato questi due Broader perchè sono molto forti insieme non sono scarsi molto forti quindi oggi volevo andare a propagazione comunque Bigby mi ha fatto le peggio giocate con lui e andare a fare una sopravvivenza in due perchè però non lo so se è per quella mappa come sia per Bigby quindi non lo so speriamo in bene andiamo a farci la partita vai in più tra 90 trofei sblocco Dana Mike un altro Broader stick vieni iniziamo io oggi voglio provare insieme a Beryl e bibi c'è un come si chiama un... non c'è tanto che stecca vattene dalla che cacchio fa questo ma è stupido no vabbè io sono un compagno di merda ma veramente vai vai meno male è tornato il mio alleato se questo qui non sapevo praticamente niente io che devo fare ho provato ad attaccare però io non ho no 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 si e ma fa qualcosa ma non fa niente non ci credo la nostra come si è detto ti mi ha dato partire il coppio mamma mia come così qua giochiamo così perché non tanto ho capito che non me fa vincere stecca niente non voglio provarlo devi minare perché soltanto so come andrà a finire comunque no vorrei aprire una cassa non riesco mai ad aprire vai 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 boom vai no no aspetta non voglio rischiare vai bene che buffanculo però solo me oh ma io oh ma quando non ci sono io sono sfiga sfiga totale dai forza non ci sono sfiga si vabbè ma quella c'è 7 cosi mamma mia e 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 vabbè 2 contro 1 certo 3 contro 1 vai vai sì non ci credo non ci credo non ci credi ma mamma mia che culo sto a salvare in una maniera pazzesca non ci credo non è neanche morto ce lo penso nooo si vai 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 che posso fare una bella partita qua ho fatto questo poi ma non puoi fare 2 contro muori ok e vabbè si si aspettato vabbè dai o magari utilizzo il mio bb che mi piace troppo ho preso la testa chissà se è riuscito ad aprirmi con una cassa non credo dai è bella così no non credo che se faccio così riuscivo a fare qualcosa non credo infatti no ma ma perché non sei andato all'addio santo un croce l'affanculo la palle e più di me scusate scusate se fa ok beh che mini merda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, vediamo se posso fare team con lui, ma non credo, perché tanto poi se lui vuole, va bene, vai. Vai così che ti ammazzo. Non l'ho fregato perché non c'era la cosa, però ho rischiato molto. Io non ce credo però, incredibile, mi sono fatto due kill, ho eliminato quel Danamek, non credo di essere più forte di lui. Danamek può fare male, certe volte. E no. Bro, aspetta, carriamo un'altra tacca, qui, c'è nessuno, no, qui, boh. Ma c'è questa droga? Oddio, niente. Ok. E io, ma perché? Ma ogni volta mi devono rompere le palle. no 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 va bene ma io mi ne vado no ho sbagliato io tutto dalla vita c'è il cacotus che mi difenderà il finimo cerchiamo di non fare cagate per favore dai beryl dai beryl nooo perchè ho sbagliato tutto dalla vita vabbè meno male che lui è l'unico che se lo può ricaricare forza no io non ci credo perchè due mila di danni che non volevo perchè poi io ce l'ho so come gestirvela me la posso gestire molto bene aspetta che io adesso mi prendo questi arrivo qui muori ho fatto la prima posizione avete visto che qui ho detto vedete che so giocare e vedo 22 coppe mmm se vengo di grado mardalla sempre per poco allora famo così va aspetteranno che sarei di grado ovvero brock e beryl allora famo così c'è un'altra partita però questa qui la taglio quando tipo salgo di grado vi farò sapere noi ci salutiamo per due secondi tra poco taglio un attimo ok ragazzi allora il mio scopo visto che brock non voglio rischiare di perdere coppe dovrei fare una quarta posizione così mi da 6 coppe quindi io adesso sapete che farò questa qui me la campero me la campero purtroppo dopo di perdere con brock perché brock non è che adesso cioè è forte sì ma è uno che se la camperà troppo e quindi devo fare purtroppo così vedi io ho paura che poi mi ammazzano vedi aspetta 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 oh dai oh dai volevo eliminare però che palle non riusciò mai di eliminarlo volevo eliminare quel corvo che palle oh che palle due coglioni ok siamo a bruno rimanenti 6 devo poter provare però a fare così veramente attenzione bene buono che palle che palle le cazze lei le cazze 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 noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao